Noi continuiamo a dire al mondo agricolo bisogna liberarsi dalla cattiva abitudine di non fare le pratiche agronomiche, di non arare, di non potare, di non estirpare perché l'alternativa alla chimica è proprio fatta dalla buona agricoltura e speriamo che dal male venga il bene e il bene è lavorare sempre più accanitamente per far emergere un modello fondato sul biologico, fondato sulle pratiche tradizionali di un mondo agricolo che ahimè progressivamente ha ceduto competenza e lo scettro appunto alle multinazionali della chimica. Ma io mi aspetto che non ci siano decisioni punitive, mi aspetto che Bruxelles rifletta molto sul fatto che l'Europa intera è minacciata a causa dei mancati o non funzionanti controlli alle frontiere, mi aspetto che l'Europa di fronte a una sfida inedita si impegni a ragionare non con gli occhi del passato, perché anche la direttiva europea, la 29 del 2000, quella che comanda determinate scelte di fronte ai patogeni da quarantena, come la xylella fastidiosa, mi auguro che Bruxelles voglia ascoltare innanzitutto il dibattito ricco che vi è nella comunità scientifica. Ecco, vorremmo evitare di subire scelte che aggravano la situazione. Quindi certo ristoro agli agricoltori che sono oggi colpiti economicamente, ma anche attenzione a tutto ciò che si sta imparando nell'esperienza di gestione di una malattia così insidiosa.